ma ben a tutti e ben ritrovati su questo nuovo video siamo arrivati siamo giunti diciamo all'ultima l'ultimo episodio di telastofas diciamo che è quello più comune ho preso i miei soliti appuntini e diciamo proprio che anche questo episodio è al bacio ok partiamo dal dal prologo così facciamo un pochino un po tutto che ci presenta la mamma di elli anna l'attrice nel che adesso mi sfugge un attimo il nome ha interpretato ellie nel videogioco che ha dato le movenza a ellie nel videogioco comunque poi quindi è cresciuta e quindi non poteva farelli anche nel telefilm quindi hanno optato per bella ramsi però comunque hanno voluto comunque inserirla per dare una certa di omaggio anche lei quindi interpreteranno che la ritroviamo incinta di ellie però cioè tipo io questa scena questo prologo l'ho interpretato così che lei viene attaccata da un infetto e essendo che comunque l'incente che stava per partorire eccetera eccetera è stata morsa ok quindi poi possiamo tipo un po' giustificare il fatto che ellie abbia preso una parte di immunità comunque l'immunità da dagli infatti proprio da quell'avvenimento lì essendo che era nella pancia della mamma e quindi è infatti non è immune proprio alla diciamo all'epidemia quindi poi crescendo è stata rimorso sul braccio ed ecco perché non si è trasformata e comunque dopo si vede una scena che racconta a marlin per fargli prendere comunque per accettare di prendere con sa ellie per per crescerla e comunque per stare per farla stare al sicuro che è anno e li racconta una piccola bugia per riuscire a comunque a farsi già a dare in a farsi comunque convincere merlin a prenderli quindi in affidamento e però faccio anche diciamo un piccolo una piccola parentesi sugli infatti perché per tutto l'episodio non ci sono stati altri infatti a parte questo qua nel prologo e secondo me in questo telefilm hanno usato pochi infatti perché comunque ricapitolando vedendo poi tutto l'insieme di tutti gli episodi infatti ci sono stati veramente veramente pochi e secondo me l'hanno inseriti proprio per dire allo spettatore guardate diciamo l'insieme la causa che diciamo scatenante di tutto questo è stato questo questo sono gli effetti negativi ma non si sono concentrati tanto su questo sull'aspetto del virus eccetera eccetera ma ci sono di concentrare su più l'aspetto umano sul sul come si dice sul sul rapporti interpersonali e quindi su sulle emozioni delle persone ok io un po l'interpretato così vedendo questo ultimo episodio è stato fedele anche hanno inserito quindi è stata anche fedele la scena dell'elefante no scusi dell'elefante se buonanotte dalla giraffa dolce joel e lì su questo in questa casa con questo grande buco dove arriva la giraffa li guarda che comunque poi lì la carezza e tutto dopo questa che giraffa se ne va e passa tutto il branco delle giraffe con anche i piccoli eccetera eccetera che comunque secondo me è tutto è tutta una cosa digitale a parere mio e l'hanno proprio riproposta proprio fedelmente una cosa che hanno cambiato dal videogioco al telefilm e la scena che quando adesso mi ricordo che sono comunque vicino all'ospedale quando all'iduo e giordo e entrare in quella quella stagno artificiale comunque nella pozza comunque doveva prendere qualcosa in acqua che si immerge viene si 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 blocca adesso benissimo la scena completa del videogioco perché comunque l'ho giocato dieci anni fa il sul ps 3 e 8 9 comunque dopo un po sulla playstation 4 quindi sono passati molti anni comunque cioè rimane bloccato sott'acqua che poi elli prende coraggio si tuffa riesce a liberare joel però non essendoci abituata comunque a stare sott'acqua eccetera eccetera sviene joel la prende e escono da quel sostegno e comunque dall'acqua vanno sulla terraferma e mentre joel cerca di rianimare elli per farla svegliare arrivano le luci l'idea l'idea lo fanno tramortiscono joel li prendono e le fanno in ospedale elli che poi comunque va la si trova in sala operatoria e joel in una stanza che dopo si sveglia capisce tutto e fa il massacro e dopo che ci arriviamo nel telefilm come l'hanno cambiata che loro stanno camminando nei pressi nell'ospedale che sono in una foresta comunque sono nei pressi dell'ospedale si vede arrivare una flashbang esplodere loro vengono un attimo tramortiti comunque stanno lì un po appagliati eccetera eccetera e lui ci arrivano li tramortiscono e li portano in ospedale e arriviamo poi al finale che è quindi che joel si sveglia in ospedale elli è lì in sala per essere operata e lì questo è il finale di sempre me sia come telefilm che come videogioco secondo me è un finale veramente figo perché comunque io lo definisco il finale di joel e questo del film è identico al videogioco perché joel arriva decida bello cazzuto fa la strage di tutti di tutte le persone che si mettono in mezzo tra lui e elli entra come proprio bello incattivito arriva fino nella sala operatoria proprio ballo cattivo uccida tutti ti metti davanti ti stenda e abbiamo visto un joel egoista perché comunque ha messo il suo la sua felicità a confronto alla felicità del mondo perché comunque lui ha scelto detto perché devo far salvare il mondo che forse potrei essere salvato come non può essere salvato perché comunque in questo percorso abbiamo visto abbiamo notato che non tutte le persone che abbiamo incontrato vogliono un'unica cosa perché luce vuole una cosa quest'altro vuole un'altra cosa quest'altro un'altra cosa giolo un'altra cosa eccetera eccetera e comunque ognuno pensa per sé e joel dice perché io devo farle questa sacrificare una persona che io tengo perché comunque grazie un po agli agli joel è riuscito a superare diciamo il trauma il ricordo della morte della figlia si è legato a lei come se fosse veramente sua figlia e lui dice perché devo fare perché no io devo essere voglio essere egoista la voglio salvare la voglio portare via non me ne frega niente del mondo perché non so perché può anche essere che prendendo prendendo diciamo il dna il sangue da ellie perché sendo che è immune può salvare il mondo può anche non salvarlo però facendo questa operazione su ellie ellie poi sarebbe morta perché comunque è un intervento molto difficile però e joel perderebbe una seconda figlia perderebbe una persona cara quindi tornerebbe a essere di nuovo triste a dire cazzo perché non sono intervenuto di nuovo e gli vengono diciamo tutti i pensieri che gli sono venuti a quando ha visto morire la figlia quindi ha detto sto giro faccio questa la vado a salvare infatti è arrivato a finire l'operatore e ha salvato ellie l'ha presa l'ha venuta fuori ha ucciso anche direi che era marlene quindi ha ucciso proprio tutti per salvare ellie la prende vanno in macchina e se ne vanno e comunque poi ellie un attimo poi si riprende e dice ma dove siamo lì joel si inventa un attimo la cacchiata e comunque questo è il miglior finale che ci potesse essere in tutto comunque in tutto diciamo tu sei videogiochi che in questo telefilm serie per me ottima che secondo me non aggiunge niente per chi ha giocato il videogioco non aggiunge niente di nuovo a parte bill e il suo amico che ci racconta qualcosa in più ci hanno fatto scoprire hanno raccontato un pochino della mamma di ellie che però nel videogioco ci racconta soltanto tramite documenti eccetera eccetera non ci non ci racconta niente di nuovo perché ha giocato al videogioco e comunque mi è piaciuto veramente molto adesso poi riuscirò a che ne so se escono i dvd della serie prenderò assolutamente e poi in futuro se ricapita me la guardo tutta sparata tutti i nuovi episodi perché è una serie da 10 lode come il videogioco merita veramente quindi chi non l'ha guardato andate andatela a guardare e per chi non ha se qualcuno guarda questi video e non ha giocato il videogioco ditemelo nei commenti cosa se vi è piaciuto non vi è piaciuto ditemi anche la vostra a me te la sto farsi mi è piaciuto anche il telefilm proprio al bacio quindi ditemi la vostra sotto nei commenti e niente ci vediamo poi nel prossimo appuntamento bello a a a